Preda di una crisi di assinenza ha rubato nello studio tecnico di Rovato in cui lavorava per comprare della cocaina. Inusuale il fatto che poi forse per un ravvedimento il quarantenne di ospitaletto poi denunciato a piede libero per furto si sia presentato per rendere la sua confessione ai carabinieri in piazza Tevaldo Brusato, dove però ha trovato il titolare dello studio che presentava la denuncia dell'ammanco. Una denuncia di furto seguita da una confessione da parte dell'autore del futto che ha portato i carabinieri della stazione di piazza Tevaldo Brusato ad approfondire la questione e ad andare ad intercettare i canali di ricettazione della merce rubata, in particolare computer e monitor per un valore di almeno 6.000 euro. Questo ci ha portato a scoprire la storia di un ragazzo che ha ceduto questi computer asportati dallo studio, dall'ufficio presso cui lavorava per acquistare delle dosi di sostanze stupefacenti. Uno scambio impari tra la merce rubata con un valore di circa 6.000 euro e la cocaina acquistata in tutto 5 grammi. In manette con l'accusa di ricettazione è finito un 26enne del Gambia al quale il quarantenne aveva ceduto computer e monitor in cambio della droga.